Che cos'è una fistola rettovaginale? Una fistola rettovaginale è un'apertura anormale che crea una connessione tra la vagina e l'eretto. Questo può permettere al contenuto dell'intestino di riversarsi nella vagina. Le dimensioni del passaggio possono variare, quindi gli impatti della condizione possono variare da relativamente minori a estremamente debilitanti. I pazienti con fistole rettovaginali possono passare le feci, il gaso e il pus dalle loro vagine, così come uno scarico maleodorante. La condizione può portare a disagio o dolore nell'area, specialmente durante i rapporti sessuali. Poiché le feci possono entrare nella vagina, possono verificarsi e rappresentarsi infezioni. Anche l'incontinenza può essere un problema. Se la fistola viene infettata, può formare un ascesso. Gli infortuni che si verificano durante il parto sono la causa più frequente di fistole rettovaginali. Durante lunghi e difficili lavori, il tessuto tra la vagina e l'ano, chiamato perineo, può lacerarsi. Un'episiotomia, in cui il medico taglia il perineo, può anche causare lacrimazione che può portare a una fistola. Diverse altri fattori possono anche avere un ruolo nella creazione di una fistola rettovaginale. Le donne con malattia di Crohn spesso le sviluppano, a volte più volte. La chirurgia che coinvolge il retto, la vagina o il tessuto circostante ha un fattore di rischio. Tumori cancerosi in quella zona, così come l'uso di radiazioni per curarli, possono portare a una fistola. Altre cause possono includere infezioni e traumi vaginali. Per determinare se una donna ha una fistola rettovaginale, un medico prima discuterà se lei ha eventuali fattori di rischio che potrebbero aver causato la condizione. Questo in genere sarà seguito da un esame fisico, in cui il medico esaminerà visivamente l'area, nonché possibilmente utilizzando le dita guantate, uno speculum o un proctoscopio per esaminare internamente la vagina e l'ano. Se l'esame fisico non localizza la fistola, è possibile ordinare ulteriori test. Si possono usare test che mostrano aria o tintura che passa dal retto alla vagina. Altre opzioni includono la tomografia compoterizzata, TC, la risonanza magnetica, risonanza magnetica, e l'ecografia. Sebbene una fistola rettovaginale possa risolversi da sola, spesso è necessario un intervento chirurgico. A seconda della posizione della fistola, la chirurgia può essere eseguita da un chirurgo ginecologico o da un chirurgo del colenretto. Poiché il tessuto deve essere sano per l'operazione, può essere necessario prendere prima antibiotici e farmaci antinfiammatori e in alcuni casi il paziente potrebbe aver bisogno di una colostomia preventiva. Durante l'intervento può essere utilizzato un lembo di tessuto sano o un trapianto da un'altra area per chiudere l'apertura.